PEGI 7 I loro metodi possono essere un po' anticonvenzionali, ma sono il meglio del meglio. Lascia che ti spieghi come funzionano le cose da queste parti. Allo S.H.I.E.L.D. si aspetteranno da te un rendimento ai massimi livelli. Dovrai annientare le forze dei Chitauri nella città di New York, sconfiggere gli Elfi oscuri sulle pianure di Svartaheim e liberare il mondo dalle grimpie meccaniche di malvagi robot. Io sono potente! Asgard Sokovia Sudafrica Questi sono solo alcuni dei luoghi che potrai esplorare liberamente. Qui potrai affrontare sfide speciali, andare a caccia di oggetti collezionabili, e reclutare nuovi eroi alla nostra causa. Ma questo è niente rispetto a New York. Lì potrai esplorare l'intera città. Salva i cittadini in pericolo. Completa le corse. Sconfiggi il crimine ovunque appaia. Il male è là fuori, in agguato dietro ogni angolo. Questo lavoro sarà pericoloso. Sarai attaccato da creature mostruose. Ma gli Avengers ti copriranno le spalle. Vai là fuori, agente. E rendi orgoglioso lo SHIELD. Aitchi il pigito. Qui potrà un 증ono. Di ski. Mi Nessun.